Un'ultima informazione vi fornisco dal lunedì, ricordo potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale, sarà operativa in tutto il territorio nazionale l'app Immuni. La potete scaricare con sicurezza, con serenità e tranquillità, perché è un'app che tutela la privacy, da questo punto di vista è molto rigorosa la disciplina, è un'app che non invade i vostri spazi di riservo privati, ma nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti, tra virgolette, sospetti. È un'app di cui siamo fieri, perché in tutta sicurezza garantiamo un servizio in più a tutti i cittadini italiani e siamo stati i primi in Europa, tra i primi, se non addirittura i primi nel mondo occidentale, aggiunge a questo risultato molto sofisticato dal punto di vista tecnologico che ha raggiunto anche e ha superato anche il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati.